Essere nella zona 3 significa che non c'è l'obbligo di adeguare vecchi capannoni e che le travi in appoggio sono a norma, va bene? Per la legge è tutto a norma. Essere in regola non vuol dire essere al sicuro. Allora, senti papà, noi possiamo parlare qua anche tutto il giorno ma la verità è che io dovrò lavorare sempre negli stessi posti, con le stesse persone, negli stessi capannoni, che siano sicuri oppure no. E se una trave d'appoggio crolla giù non cambierà mai nulla, chiaro? Devono riperarla? Sì, ma non lo possono fare qui. Devono portarla in Germania. Antonio, il signore che stava qua, dov'è? Ma non lo so, quando sono arrivata non c'era già più. Infermiera? Infermiera? La vedi questa valvola che c'è sopra? Basta girarla. E chi si è visto, si è visto. Cos'è? Un ricatto? Come si permette di propormi? Deve andare! Deve andare! È scrollato tutto! È scrollato tutto!